SCP-001 Proposta di Dr. Mann Definito anche il sentiero Classe dell'oggetto Euclid Procedure di contenimento SCP-001 Si trova sul terreno del sito 0 Nella parte settentrionale di... Una recinzione è stata costruita Attorno al perimetro del raggio d'azione Degli effetti SCP-001 Oltre alla sicurezza del sito 0 Non meno di 5 guardie armate Devono essere costantemente presenti Onde prevenire entrate non autorizzate nell'area Il limitofo laboratorio di fisica Sarà sempre dotato di personale Che studierà qualsiasi anomalia Si presenterà nell'area Una piccola placca di metallo Con sopra un'iscrizione Dovrà essere mantenuta in buono stato Qualsiasi danno alla placca in questione Va assolutamente portato all'attenzione Della manutenzione Descrizione SCP-001 è un sentiero circolare di ghiaia in un'area boschiva Quando si viaggia in senso anti-orario Il sentiero è sempre in salita Fino a raggiungere il punto di partenza Invece, quando si viaggia in senso orario Il sentiero mostra lo stesso numero di salite e discese Come previsto Per accedere ai file riguardanti SCP-001 È necessaria un'autorizzazione di livello 5 Il sentiero è un'autorizzazione di livello 5